Riparazione dei freni, delle luci e tanti altri piccoli servizi riservati alle biciclette. L'officina mobile riapre i battenti. I cittadini da oggi possono usufruire di una revisione gratuita del proprio mezzo. I punti di assistenza sono posizionati in vari quartieri del capoluogo in diverse date che si potranno consultare online sul sito del comune di Bolzano. L'iniziativa è iniziata oggi da Piazza Mazzini. Il progetto consolidato è quello che vedete dentro di me, è l'officina mobile della cooperativa Novum che adesso sarà in diversi quartieri della città e offre questa possibilità di rivedere la bici, di fare anche piccole riparazioni. Sono due blocchi, adesso uno in primavera e il prossimo sarà poi in autunno o anche in inverno con il controllo luci. Per gli appassionati delle due ruote le novità non terminano qui. Infatti il rodato, servizio noleggio di biciclette del comune, arricchisce la propria offerta grazie all'arrivo di 80 bici nuove di Zecca. E da quest'anno la città di Bolzano partecipa alla European Cycling Challenge, la sfida europea in bicicletta. Una competizione a squadre riservata ai ciclisti urbani che si terrà dal primo al 31 maggio in varie città italiane e europee, tra le quali Bologna, Padova, Roma, Oslo, Barcellona e tante altre. Come città di Bolzano abbiamo creato una squadra che partecipa all'iniziativa e tutti i cittadini che vogliono possono iscriversi, c'è un sito apposito che è www.europeancyclingchallenge.eu e possono o scaricare un'applicazione per il cellulare che terrà tracciati per tutto il mese di maggio i loro spostamenti in bicicletta oppure inserirli nella sito internet. Praticamente ogni chilometro che loro percorreranno in bicicletta durante il mese di maggio andrà ad aggiungersi a quelli della città di Bolzano e quindi alla fine chi avrà percorso più chilometri come città vincerà la competizione. Il divertimento sulle due ruote continua, infatti il comune di Bolzano parteciperà alla prima edizione del ciclo concorso provinciale l'Alto Adige Pedala. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web altoadigepedala.bz.it